Buongiorno, in questa puntata tenteremo di fare un viaggio nel futuro. Cercheremo di usare un'ipotetica macchina del tempo per capire quale sarà il futuro del nostro pianeta, della nostra società, tra 50 o 100 anni, alla luce di quei dati e di quelle informazioni che ricercatori, scienziati e istituti di ricerca oggi ci mettono a disposizione con i modelli predittivi. Per fare questo viaggio ovviamente ci avverremo di dati e di informazioni oggi in nostro possesso e sulla costruzione di modelli predittivi su questioni come i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, crisi energetica, flussi migratori di alcuni popoli. In tutto questo cercheremo di ipotizzare quale sarà ovviamente il mondo del futuro. Capirete che è un procedimento facile a dirsi ma di esito incerto proprio perché nessuna mente al mondo e nessun elaboratore è in grado non solo di calcolare un'altare mole di dati ma anche di conoscerne il valore perché molti aspetti delle cose che ci circondano giacciono ancora nella penombra della scienza e dei suoi modelli previsionali. Partiamo dai cambiamenti climatici e dalle loro conseguenze. Secondo alcune teorie basate sull'elaborazione di milioni di dati, due scienziati, il cinese Yang Yang Ksu e l'indiano Verbatran Ramantan, in una pubblicazione scientifica che aveva fatto discutere a suo tempo ci hanno ammonito che già nel 2030 le emissioni di anidride carbonica raggiungeranno livelli mai visti negli ultimi due milioni di anni. Giunti in quella data i governi tenteranno di porre il rimedio ma il tutto risulterà alquanto aleatorio sia per l'improbabilità di cambiare in tempi così brevi i modelli socio-economici sia per il sistema di sviluppo ancora saldamente ancorato alle risorse non rinnovabili come petrolio e carbone. Così nel 2050 il riscaldamento globale, secondo questi calcoli previsionali, raggiungerà i famosi 3 gradi, di cui 2,4 legati alle emissioni e 0,6 al cosiddetto carbon feedback, cioè quella reazione negativa del pianeta al riscaldamento globale. In questo scenario l'anno 2050 rappresenterà l'inizio della fine. Buona parte degli ecosistemi terrestri collasseranno dall'Artico all'Amazzonia alla barriera corallina. Il 35% della superficie terrestre, dove vive il 55% della popolazione mondiale, verrà investito per almeno 20 giorni l'anno da ondate di calore letali, mentre il livello del mare si innalzerà di alcuni metri. In questo scenario il 30% della superficie terrestre diventerà arida, Mediterraneo, Asia Occidentale, Medio Oriente, Australia interna e sul dovest degli Stati Uniti, per fare degli esempi, diventeranno inabitabili. Una crisi idrica colossale investirà circa 2 miliardi di persone, mentre l'agricoltura globale imploderà con raccolti crollati del 20% e prezzi alle stelle, portando ad almeno un miliardo di profughi climatici. Guerre e carestrie porteranno a una probabile fine della civiltà umana, così come la intendiamo oggi, in quanto tutto questo trascinerà con sé sistemi politici, sociali, finanza e multinazionali. Non facciamo ovviamente un'ipotesi a 2100, intanto perché si tratta di un tempo dove i modelli predittivi si caricano di troppe variabili, ed anche perché, se l'andamento dovesse proseguire con le stesse dinamiche, oggi osservate, in quel periodo le temperature salirebbero ancora, fino a 5 gradi entro quella data. Ovviamente la civiltà umana non farebbe in tempo a vederli, poiché la maggior parte degli scienziati ritiene che un aumento di 4 gradi distruggerebbe l'ecosistema mondiale, portando alla fine della civiltà come oggi la conosciamo. Il vero problema è inoltre rappresentato da alcune soglie di non ritorno, climatiche, come la distruzione delle galotte polari e il conseguente innalzamento del livello del mare, soglie di non ritorno molto pericolose che una volta oltrepassate trasformerebbero il climate change in un evento non lineare e difficilmente prevedibile con gli strumenti oggi a disposizione della scienza. Dopo il superamento di quei punti di non ritorno, il riscaldamento globale si autoalimenterebbe anche senza l'azione dell'uomo, rendendo inutile ogni tardivo tentativo di eliminare le emissioni. A questo proposito, soprattutto per gli scettici, ricordiamo che lo scioglimento dei ghiacciai, e quindi delle galotte polari, la perdita di biodiversità, la diminuzione delle rese agricole, la desertificazione ed altri fenomeni noti, sono già in atto e soprattutto misurati da decenni e che tali informazioni incontrovertibili sono note a molti istituti di ricerca. La domanda è, ma perché sta succedendo tutto questo? Detto in maniera molto semplice, perché l'umanità ha creduto di creare un modello socio-economico, quasi sempre in contrasto con le leggi della natura, che pur se molto complesse, sono basate su principi molto elementari. Questi principi, che vedono nella diversità dei sistemi e delle specie il fondamento per un modello energetico e democratico più forte, sono stati totalmente disattesi dal modello economico e finanziario messo in piedi a partire dalla metà del XIX secolo, creando una interferenza così forte tra il modello sociale e quello ecologico, così palese, da costringere per la prima volta nella storia un Papa, Papa Francesco, ad emanare un'enciclica, la laudato sì, in cui ammonisce sulla necessità di ricreare una società basata su una ecologia integrale. Cosa dobbiamo aspettarci dopo un tale periodo? Come dopo un grande cataclisma, società ed ambiente saranno alquanto provati, ma tutto ciò genererà una nuova cultura e soprattutto una nuova etica e spiritualità. L'umanità capirà che fuori dalle regole della natura non c'è storia. L'umanità inizierà a guardare in alto, in quella direzione dove, per oltre due secoli, aveva con presunzione distolto lo sguardo. L'umanità, quella che sarà sopravvissuta, inizierà un lento percorso di ricostruzione di se stessa e dei valori della vita. Cambierà il modo di organizzare le città, le sue comunità, sarà la morte graduale delle megalopoli e la nascita di agglomerati molto più diffusi dove natura e umanità torneranno a convivere. Anche le nostre abitazioni cambieranno. Diverranno ecosistemi perfettamente integrati in quello naturale. Cambieranno i materiali di costruzione. Proverranno da fonti rinnovabili, per esempio legno e bambù, e l'economia circolare sarà il fondamento per la nuova democrazia e condivisione dei beni. Inoltre, la produzione energetica sarà totalmente rinnovabile e fondata sulla generazione distribuita. L'agricoltura cambierà gradualmente i suoi paradigmi. Si andrà verso forme di sovranità alimentare ed il recupero della biodiversità, quella che sarà rimasta, non solo in termini produttivi, ma anche nella direzione di un nuovo modello alimentare. Oggi molto legato al petrol chimico, alla chimica di sintesi e alle grandi piattaforme di distribuzione. L'alimentazione cambierà e tutte le piante contribuiranno a dare il loro contributo, sia in termini alimentari che curativi ed energetici. Ben presto, anche le norme e le leggi diventeranno sincrone a quelle dei codici della natura. Finirà lo sfruttamento delle risorse ed inizierà quello della gestione e della condivisione. Si andrà verso quella ecologia integrale dove leggi ecologiche e leggi economiche saranno perfettamente sincrone. In pratica vivremo in un mondo allo stesso tempo globale ma fortemente basato sul localismo. Tutti avremo di più e la delocalizzazione imposta dal modello petrol chimico non sarà più necessaria. Avremo pertanto sistemi e mezzi di trasporto differenti e più efficienti, collegamenti concentrati molto più sul corto raggio e con un'impronta ecologica noterolmente minore. Il pianeta che verrà non sarà perfetto. Le leggi dell'entropia non possono essere sconfitte né disattese ma sarà un pianeta più rispettato e tale rispetto ricadrà su un sistema di benessere e di giustizia che alimenteranno per la prima volta una pace non basata sulla sopraffazione ma sulla eguaglianza. Lo scenario che vi ho appena prospettato non ci fa stare né sereni né chiaramente tranquilli. Ovviamente gli scienziati su questo sono stati molto precisi esaustivi e gli anni che ci separano all'agenda 2030 quindi da oggi fino al 2030 saranno i più importanti per questa umanità per prendere decisioni fondamentali ma anche per acquisire stili di vita diversi. Quello che più ci preoccupa però non sono solo le multinazionali che tentano di conservare il loro dominio ma spesso lo scetticismo della popolazione che forse non ha ancora chiaro tutto quello che sta succedendo nella storia dell'uomo. Vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e vi invito a rimanere su questo canale seguendo le indicazioni che ora vedrete. Grazie. Grazie a tutti.